Un grande successo in termini di pubblico, iniziative e accordi con buyers internazionali, la seconda edizione della Fiera Internazionale dei Tartufi d'Abruzzo che si è svolta all'Aquila in una tre giorni ricca di iniziative. 60 aziende presenti in fiera, momento organizzato dalla Regione Abruzzo con l'assessorata d'agricoltura, tramite il proprio braccio operativo, l'Arap. Parte la seconda edizione della Fiera Internazionale dei Tartufi d'Abruzzo con oltre 60 stand, con 20 ristoranti convenzionati che daranno piatti nella città dell'Aquila al Tartufo, con convegni, con Masterclass, con Chef Stellati, Chefs Internazionali, con 15 buyer internazionali dove ci saranno B2B con le nostre aziende proprio per far conoscere e valorizzare, per commercializzare a livello nazionale e internazionale i nostri tartufi e l'agri-food in generale della nostra Regione. È un progetto che vede la valorizzazione del nostro territorio, è un progetto che vede la valorizzazione dei nostri tartufi che negli anni hanno fatto ricche altre Regioni. Oggi stiamo lavorando, abbiamo lavorato in questi anni in maniera importante per promuovere i nostri prodotti, le nostre tipicità, la nostra qualità a livello nazionale e internazionale facendo conoscere la nostra Regione che è una Regione unica nel suo genere, ricca di biodiversità e ricca di valori ambientali che sono unici. Io plaudo a questa iniziativa che è la seconda edizione, non soltanto è un momento per tanti espositori di promuovere un prodotto straordinario come il tartufo e tutta la trasformazione che chiaramente segue questo prodotto ma diventa una vetrina internazionale per i mercati europei, appunto i mercati internazionali anche per la stessa città dell'Aquila. Quindi una sintesi perfetta di quella che deve essere la giusta interpretazione della promozione dei nostri prodotti agroalimentari, della nostra grande capacità di trasformarli e della promozione del territorio nei quali e sui quali questi prodotti vengono coltivati e raccolti. Quindi veramente una grande iniziativa e la lungimiranza del Vice Presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente si conferma anche in questa occasione. Sì, siamo molto orgogliosi di aver coadiuvato la Regione nella organizzazione puntuale di questo evento che è alla seconda edizione e la prima edizione è partita in via sperimentale, embrionale e improvvisata nel giro di un mese. Quindi abbiamo comunque raccolto tanti buyer per oggi veramente è l'edizione lancio, quella in cui abbiamo lavorato insomma tanto tempo e quindi penso che sarà un'edizione che lascerà il segno e diciamo l'inizio di un lungo percorso. Abbiamo coinvolto veramente moltissime aziende, quindi circa una sessantina, 15 buyer a livello internazionale e questo perché vogliamo veramente promuovere i prodotti, diciamo in questo caso specifico il tartufo e lanciarlo veramente come prodotto importante per i mercati non solo nazionali ma anche esteri. Far conoscere le bellezze, le specialità, le tipicità dell'appruzzo in Italia e nel mondo perché troppe volte le cose belle, buone e preziose che noi abbiamo facciamo fatica a conoscerle anche dentro l'abruzzo come questa particolarità del tartufo. Persino dentro l'abruzzo stesso io continuo a trovare persone che si stupiscono di sapere, di conoscere, di scoprire che il nostro tartufo è buono come i migliori d'Italia e del mondo. Una fiera internazionale del tartufo che è un prodotto della nostra regione dove noi siamo tra i maggiori produttori però non avevamo quella legittimazione che una manifestazione come questa ci dà. Oggi anche il tempo è buono quindi speriamo che sia molto partecipato. Il Comune dell'Aquila ha fatto la sua parte si è messo a totale disposizione gli organizzatori e speriamo che questo sia un appuntamento fisso sempre più importante per la nostra regione e non solo. Obiettivo dare identità e risalto a un prodotto partendo dal presupposto che l'abruzzo è già i primi posti in Italia per raccolta e commercializzazione del tartufo bianco e del tartufo nero pregiato con una produzione di tutte e nove le qualità di 800 quintali nel 2022 e un fatturato di 5,1 milioni di euro. Michele Amicosante, Aquilano Doc, insomma il prodotto per eccellenza ci racconti un po' della tua azienda e che prodotti offrite se è tartufo nero o bianco. Sì, allora noi trattiamo sia tartufo nero sia tartufo bianco. Nasciamo l'anno scorso, in agosto in particolare, abbiamo comunque avuto subito un forte successo grazie anche alla fiera internazionale del tartufo di Arap, del Presidente Imprudente e comunque ci hanno aiutato molto a darci visibilità nel contesto nazionale e anche internazionale. Abbiamo fin da subito cercato di fare un'eccellenza dei prodotti abbiamo dei prodotti che una salsa tartufo bianco è al 70% quando generalmente è al 2-3% e mentre la salsa tartufata che proponiamo è al 20%, una salsa tartufata estremamente diciamo con cose abbastanza diciamo di alta fascia anche partendo dalla Roma e dal tartufo stesso. E poi naturalmente abbiamo avuto un forte risconto nella ristorazione perché abbassiamo i costi dal momento che siamo comunque un chilometro zero perché facciamo dei cavatori direttamente ai ristoratori. Ecco voi avete dei cani da tartufo che trovano il tartufo, è una zona ricca si trova? Assolutamente sì, l'Abruzzo è una zona ricca, fortunatamente anche dando queste informazioni, questa visibilità stiamo anche riscontrando un forte successo all'estero perché abbiamo molta visibilità e il brand del tartufo d'Abruzzo sta andando diciamo per la maggiore fortunatamente. Gianluca Nappo ci spieghi anche in che cosa consiste questo progetto dell'albero? Sì allora abbiamo deciso di far custodire alle persone gli alberi della nostra tartufaia che ne conta quasi 3000 quindi le persone possono scegliere vari pacchetti hanno subito dei prodotti al tartufo e in più a seconda del pacchetto possono ricevere il panettone a Natale regalo al compleanno, i cioccolatini per una ricorrenza speciale e regaliamo questi alberi stampati in 3D e avvicinando il telefono alla base entrano subito nella mappa della nostra tartufaia dove vedono il loro albero a cui possono anche dare il nome Chef stellati che hanno tenuto le loro masterclass influencer, spettacoli, il coinvolgimento degli studenti degli istituti alberghieri abruzzesi contest di studenti dolce ma anche momenti di approfondimento dedicati con appositi convegni per il tartufo Siamo con lo chef William Zonfa una masterclass, una presenza fissa a questa fiera che è importante perché lei insomma nella sua professione ha sempre portato il nome del tartufo ma che sia abruzzese in giro Sì, è la seconda edizione del festival del tartufo internazionale del tartufo d'Abruzzo anche quest'anno diamo il nostro contributo ci sembra anche doveroso insomma essendo a casa cucino oggi un piatto con dei fagioli fagioli, tartufo bianco, orzo perlato e caffè quindi invito tutte le persone che si trovano oggi a questa bellissima manifestazione ad assaggiare questo piatto è importantissimo valorizzare il territorio è importantissimo cercare di raccontare al meglio il nostro prodotto per far sì che insomma il territorio cresca si faccia gruppo e si fa turismo La scuola Maiella in collaborazione con l'Istituto Serpieri ha attivato un bel progetto, una bella collaborazione nata proprio qui all'interno della prima edizione della fiera internazionale del tartufo d'Abruzzo in che cosa consiste questo progetto? Allora, è un progetto che include l'educazione cinofila presso i ragazzi dell'Istituto Serpieri è stata donata a loro dal nostro centro cinofilo EMI che è la protagonista diretta di questa progettualità andiamo due volte al mese e facciamo formazione sui ragazzi per quanto concerne sia l'educazione, il rapporto per il cane la sensibilità, la gestione e il controllo e sia la canalizzazione sul tartufo che è un aspetto importante per far sì che questo patrimonio cinotecnico venga conservato nel tempo essendo anche diventato patrimonio UNESCO cerca e cavatore del tartufo l'anno scorso è nata questa iniziativa tra me e la professoressa Pezzi e poi è stata subito acclarata dal vicepresidente Imprudente dal presidente Cerretano da tutti gli addetti ai lavori anche aziende come Microplant ci ha appoggiato da subito abbiamo il professor Di Gregorio all'interno dell'istituto che si occupa di tartuficoltura in prevalenza ed è un progetto che è nato per due chiacchiere qui due persone che si sono incontrate in fiera e l'anno dopo è un progetto che possiamo dire che è consolidato Irene Laura Micarella è una studentessa dell'istituto Leonardo da Vinci l'alberghiero dell'Aquila questa mattina c'è un contest di studenti di tartufiamo ma a livello generale quanto è importante per voi confrontarvi poi con queste fiere con la possibilità di avere a che fare con chef, influencer del vostro mondo? per noi è molto importante ma oltre che per appunto valutarci anche professionalmente con altri chef ma anche con le altre scuole della nostra regione che ovviamente ci siamo già visti in altre occasioni ma è stata un'esperienza bella e soprattutto si è sentita molto la competitività di questa esperienza quindi ci siamo resi competitivi ci siamo impegnati su questo frangente che sia il vino per me che sono della sala ma come il piatto che ha preparato anche perché sono settimane e settimane che ci prepariamo per questo concorso tra l'abbinamento ma il piatto è veramente pauroso e ci ha voluto veramente tanto per prepararlo sia il mio che tutti gli altri che piatto è possiamo dirlo? per quanto riguarda il mio è una rivisitazione della pizza di Aquilana e del mostacciolo con quindi un crumble al tartufo bianco e una crema allo zafferano una parte molto interessante è stata quella degli incontri al circolo tennis tra le aziende presenti e buyers internazionali quest'ultima hanno mostrato grande interesse per il tartufo ma anche per altri prodotti made in Abruzzo come formaggi, olio, patate, carote, aglio nero e diversi accordi commerciali già sono stati sottoscritti insomma si punta a far diventare questa fiera davvero un appuntamento di riferimento fondamentale e fisso lei è un'azienda di vini quanto è importante attraverso una fiera come questa mettersi in contatto con buyers anche straniere e far conoscere i vostri prodotti? è importantissimo perché questa mattina comunque abbiamo fatto due o tre incontri con persone, con buyers e hanno apprezzato il nostro prodotto il nostro prodotto comunque è un prodotto di nicchia è un prodotto artigianale ma lo hanno apprezzato moltissimo si sono complimentati e sinceramente penso che riusciremo a chiudere anche qualche piccolo scambio con questi signori non sono europei sono al di fuori dell'Europa quindi per noi conquistare un mercato al di fuori dell'Europa è un qualcosa che ci fa orgoglio che ci orgoglisce tantissimo perché siamo una piccola realtà ma pur essendo una piccola realtà comunque come dicevo prima noi abbiamo un prodotto di eccellenza Michelangelo Satriano è italianissimo però è un buyer della Bosnia-Herzegovina state incontrando molte aziende locali i prodotti italiani quanto piacciono all'estero? Per noi è una bellissima esperienza in Abruzzo per me è la prima volta abbiamo avuto la possibilità chiaramente i prodotti italiani abbiamo delle eccellenze in Italia che sono molto conosciute all'estero in particolare alcune specialità abruzzesi abbiamo visto che c'è una grande produzione di tartufo ma oltre alla quantità abbiamo scoperto che ci sono grandi produzioni ma soprattutto di qualità io penso che oltre al prodotto abbiamo scoperto anche tante aziende fatte da persone che sono veramente in gamba che ci credono chiaramente spinte dal prodotto di qualità ma che credono proprio in quello che fanno abbiamo visto la possibilità di lavorare io in questo momento rappresento un'azienda della Bosnia-Herzegovina però secondo me essendo un paese relativamente povero ma qui abbiamo trovato un prodotto relativamente diciamo così come il tartufo che non si può sopermettere tutti insomma voglio dire però c'è molto interesse soprattutto negli ultimi anni oltretutto olio di oliva prodotti derivati dal tartufo e zafferano sono veramente delle eccellenze abruzzesi molto interessanti Maria è una buyers che arriva dalla Finlandia state conoscendo tante aziende abruzzesi italiani che prodotti vi interessano di più vi stanno destando curiosità allora soprattutto prodotti naturali sulla base artisana artisana come dei snacks per esempio sono che sono fatti sulla base del mais nero poi vini poi varie paste pasta artigianale eccetera eccetera il nostro tartufo che è veramente un'eccellenza davvero e ho fatto veramente con questa questa fiera il primo contatto internazionale con il tartufo è una meraviglia sono senza parole grazie 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 grazie